Torna l'attività legislativa in consiglio regionale. Dopo mesi di stop e con l'assemblea di Palazzo Daimmo trasformata in una sorta di mozionificio a moto perpetuo, tornano finalmente gli atti di programmazione. In realtà il fatto non dovrebbe essere nemmeno una notizia, poiché la principale attività di un'assemblea legislativa è produrre leggi, ma in una regione come il Molise, dove spesso il facile diventa difficile attraverso l'inutile, quella in agenda è certamente una novità da salutare positivamente, anche se i problemi restano, come sottolinea il capogruppo del Movimento 5 Stelle in regione, Andrea Greco. Sicuramente è meglio tardi che mai, però chiaramente siamo in straordinario ritardo, la maggioranza toma in grandissimo ritardo, perché le leggi devono essere approvate chiaramente a inizio legislatura per poi fondare su quelle basi un'azione di governo. Devo dire che anche grazie alla vostra azione, l'azione della vostra emittente, e quella percussiva fatta dall'opposizione proprio sulle leggi, forse qualcosa si inizia a muovere. In questo momento è determinante fare ciò che serve a favore dei cittadini molisani. Purtroppo sono ancora però tantissime le norme ferme nelle commissioni. Aspettiamo che il prima possibile questi argomenti vengano affrontati, posti all'ordine del giorno e approvati per aiutare molisani. Facile prevedere che tornerà in Consiglio regionale anche il tema sanità, le impugnative del piano sanitario adottato dal commissario Tomasi, moltiplicano registrando un vero e proprio fronte dei sindaci di diverse estrazioni politiche che hanno preso posizione contraria rispetto al documento, un atto che, contrariamente a quello che si crede, non scadrà il prossimo 31 dicembre. Innanzitutto ringrazio i sindaci di Campobasso, Iserni e Larino che si sono chiaramente schierati contro questo piano operativo, anche il sindaco di Guglionesi. Cosa si può fare? Sicuramente concertare con gli amministratori locali. I sindaci hanno non solo il diritto, ma a mio avviso l'onere proprio di confrontarsi con la regione. Quindi Donato Toma, il commissario ad acta, deve insieme a loro capire come settare la sanità sul territorio. Non è possibile ipotizzare degli atti d'imperio, degli atti attraverso i quali appunto il presidente decide da solo e poi tutti quanti devono osservare. Chiaramente questo dà vita, a mio avviso, a una serie di vizi che immagino saranno fatti valere innanzi ai tribunali amministrativi. Ecco, non è vera la storia che questo posto scade il 31 dicembre? Assolutamente no, questo è una grossa fake che si sta diffondendo, una grossa falsità. Il piano operativo, una volta adottato, rimane in vigore finché non viene adottato un nuovo piano operativo. Significa che questo piano potenzialmente potrebbe durare per i prossimi due, tre, quattro anni fin quando non si approva il nuovo. Proprio per questo è determinante che venga assolutamente annullato e venga ripensato insieme al Consiglio regionale e agli amministratori locali. Noi il 16 avremo proprio una mozione che è scritta da tempo in cui chiediamo l'annullamento di questo provvedimento. Grazie a tutti.